Wow ragazzi bentornati, oggi vedremo tutto il set ad avancarica Come molti di voi sapranno la Epic nonostante abbia sbagliato a introdurci questi lama ha deciso di mettere nel negozio i lama da cui è possibile ottenere le armi ad avancarica Le armi ad avancarica uscirono già comunque un anno fa, quindi tra virgolette è un set vecchio ma molte di queste armi vanno ancora benissimo al giorno d'oggi Comunque vedremo un gameplay riassuntivo di tutte queste armi e cercheremo di vedere un po' appunto tutte le armi, che dire Siete pronti col video? Buona visione! Cominciamo questo video presentandovi la duellante Questa è una pistola ad avancarica, revolver a cadenza ridotta ma molto potente Inflisce danni notevoli con i colpi alla testa e respinge i bersagli, precisa fino a media gittata Questa pistola raga devo dire che comunque se non l'avessi provata probabilmente l'avrei snobbata già sicuramente in partenza Allora innanzitutto questa pistola comunque ha una dimensione caricatore di 6 colpi quindi potremo spammare diciamo i 6 colpi, non proprio spammare però a differenza della vendetta di Jack possiamo sparare più colpi Ecco ovviamente toglie molto meno della vendetta di Jack però compensa questo fatto con appunto la dimensione del caricatore Le trovo un po' entrambi armi molto simili eh se non fosse appunto per il danno esagerato della vendetta di Jack però appunto su essa abbiamo solo un colpo mentre su questa abbiamo un danno molto ridotto però comunque abbiamo 6 colpi Ha un tempo di ricarica di 2,4 secondi come vedete il percaggio è stato fatto danni critici, danni elemento fisico, livello critico, danni mostri della nebbia ai boss ovviamente prendete solo il percaggio delle armi come punto di riferimento e sviluppatevi tutte le armi come volete voi semplicemente perché non ho potuto percare personalmente queste armi infatti devo ringraziare molte persone che mi hanno aiutato per questo video perché appunto non tutte le armi sono percate da me e questa era la prima poi abbiamo il dragone fucile pesante avancarica infligge danni ingenti e respinge più nemici in un'area molto ampia è penalizzato dalla gittata ridotta dalla scarsa capienza del caricatore dal rinculo elevato e dagli elevati tempi di ricarica allora raga innanzitutto a me piacciono tantissimo i pompa su questo gioco però un pompa per essere utilizzato su salva al mondo deve avere qualche particolare veramente degno di nota in questo caso questo dragone possiamo dire che è sì carino quando lo utilizziamo in gruppo vedrete che colpirete tanti zombie ma per quanto riguarda il bersaglio singolo non possiamo fare affidamento su di esso ecco per quanto riguarda appunto il multi target beh c'è da dire che comunque abbiamo il pulsare 9000 abbiamo lo shot staccato sicuramente nessuno di voi mai opterà per questo dragone semplicemente perché comunque bisogna essere veramente attaccati allo zombie a cui si vuole sparare e l'unica cosa comoda di questo pompa è appunto quando ci pusheranno in mischia riusciremo a colpire tanti tanti zombie per il resto questa vi consiglio di potenziarla direi proprio di no comunque il dragone percato con livello critico velocità di ricarica elemento energia danni critici danni e bersagli rallentati e intrappolati perché l'ultima perk il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento bla 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 non mi piace particolarmente questo pompa sia per il mirino troppo ampio e sia per il fatto che comunque dobbiamo essere veramente vicini al bersaglio ecco a quel punto preferirei utilizzare sinceramente altri pompa un fatto positivo secondo me di questo pompa perché ovviamente non possiamo solo disprezzare le armi dai cerchiamo di cogliere anche gli aspetti positivi come vedete l'impatto ma non solo l'impatto anche la respinta di questo pompa è veramente interessante se riuscirete a colpire uno smasher diciamo sempre nel momento giusto cioè nel momento in cui sapete che non vi triggerà l'impatto beh riuscirete a far balzare uno smasher praticamente ad ogni colpo questo è un fattore molto 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 importante secondo me raga adesso non vorrei dire una grossa cazzata ma non mi sembra di ricordare che esistano pompa con così tanto impatto o almeno anche con questa respinta diciamo abbastanza comoda però purtroppo alla fin fine anche questi danni ingenti tra molte virgolette non è che siano poi così ingenti eh la prossima adesso vediamo la vecchia Betsy e il cannocchiale questi sono entrambi i miei progetti però sono stati percati seguendo un ragionamento ben definito allora raga vi devo spiegare una cosa molto ma molto importante su queste due armi il cannocchiale e la vecchia Betsy sono due armi completamente identiche quindi in questo caso ho deciso di percarne una con livello critico e doppio danno critico il cannocchiale e la vecchia Betsy con triplo danno e una velocità di ricarica perché questo? perché la vecchia Betsy la utilizzo molto contro il re della tempesta a vallarguta la utilizzavo anche contro l'ufo ovviamente percarla in danni contro l'ufo era il top ora come ora comunque esistono armi molto più performanti anche per shottare l'ufo in modalità resistenza però ho deciso di tenere questa vecchia Betsy con triplo danno semplicemente per pusharmi il re di vallarguta e vi starete chiedendo perché Kino ha bisogno di pushare il re di vallarguta? perché il re di vallarguta si è fatto veramente velocemente anche perché è molto più semplice del re mitico insomma l'acqua non toglie danno non c'è la safe gli zombie sono comunque di livello basso al 70 il corno ha molta meno vita e avrete anche molto più tempo per tirarlo giù in questo caso comunque fucile di precisione bolt action ad avancarica è un fucile preciso e molto potente con un solo proiettile per caricatore che scalcia come un mulo i suoi danni elevati e l'impatto eccezionale lo rendono una scelta perfetta perché è in grado di tenerlo a bada come dicevo pushare il re della tempesta a vallarguta ci metterete al massimo 2 minuti 3 minuti se ci metterete troppo ecco se salterete qualche punto perché in sostanza quello di vallarguta ha anche solo 3 punti deboli da poter shottare dopodiché si passerà direttamente il corno no? beh raga la vecchia Betsy è molto utile in quanto comunque non dovrà sfoderare fuori il mirino infatti la differenza tra la vecchia Betsy e il cannocchiale è appunto il mirino e il fatto che la vecchia Betsy perde potenza dopo una lunghezza di 7 tiles ricordatevi bene queste nozioni fondamentali poi raga abbiamo lo schioppo arma famosissima arma d'assalto ad avancarica un fucile a più canne sorprendentemente preciso che spara raffiche potenti i suoi danni elevati e il caricatore capiente compensano la sua cadenza di tiro ridotta e il suo rinculo lo schioppo raga ormai penso lo conosciate già abbastanza bene tutti quanti era un'arma fondamentale da avere perché dico era perché comunque ora ci sono molte altre armi che potete optare per sostituire lo schioppo sicuramente averlo è un'ottima scelta in quanto è un'arma davvero utile e performante ma non in tutti i casi perché contro i bersagli singoli sì sarà una delle migliori armi ma quando vi pushano zombie di gruppo beh con lo schioppo non è che potrete far molto diciamoci la verità comunque che dire sullo schioppo un'arma eccezionale ovviamente sui singoli bersagli percato con livello critico velocità di ricarica elemento fisico perché purtroppo ne ho soltanto uno e doppio danno critico colpire 5 volte di fila lo stesso bersaglio causa una piccola esplosione che infligge danni ai nemici in un raggio di 0,5 unità del bersaglio per il 70% dei danni però in sostanza le esplosioni in 0,5 unità sono abbastanza ristrette non riusciremo a fare più di tanto ecco in sostanza comunque con lo schioppo sparando queste raffiche potentissime diciamo che vi scoccerà quasi dover sparare a un piccoletto dover sparare a un truccioletto di quelli piccoli che vi pusciano in massa cioè vi renderete conto che proprio state sprecando l'arma magari a dover sparare contro di lui però questo fattore è semplicemente risolvibile tenendo un'altra arma apposta nel nostro inventario insomma so che purtroppo tre slot sono veramente pochi ce ne vorrebbero almeno cinque secondo la mia opinione uno per i buffer uno per il barone almeno due armi e un'altra arma utility possiamo dire però purtroppo per ora è ancora così abbiamo il lancia bullying arma esplosiva cannone ad avancarica lancia palle di cannone che danneggiano e respingono gruppi di nemici le palle di cannone possono rimbalzare prima di esplodere danneggiando i nemici vicini a ciascun rimbalzo in sostanza questo lancia bullying è molto utile utilizzarlo nei tunnel ovviamente anche se comunque rischiamo di far esplodere tutto per caso con un doppio danno una velocità di ricarica e danni e bersagli rallentati intrappolati semplicemente perché non mi va di aspettare il critico su quest'arma preferisco optare per un danno più stabile anche perché comunque le palle di cannone dentro i tunnel non è che rimbalzeranno poi così tanto diciamoci la verità poi sinceramente preferisco tuttora altri lanciarazzi probabilmente l'ho craftato solamente una volta e per sbaglio vi aggiungo non è un'arma che mi piace troppo per il semplice fatto che comunque è troppo variabile prendiamo per esempio un lanciarazzi che esplode a impatto in quel momento riesco sì a difendermi meglio a uccidere più zombie e a fare tante altre cose che con questo lanciabulling comunque non riesco a fare avrebbero potuto mettere appunto il costo delle munizioni leggermente inferiore secondo me su quest'arma però questo è quanto spreca tre colpi a colpo sappiamo tutti che colpi razzo al giorno d'oggi non sono poi così tanto farmabili cioè craftabili volevo dire e quindi questo è quanto ve la consiglio secondo me no ci sono lanciarazzi molto più forti dai non prendiamoci in giro poi abbiamo lo sirhuti velocità attacco danni e danni purtroppo su quest'arma non è possibile fare una build critica in quanto dovremo togliere la velocità attacco e purtroppo questo sirhuti è veramente veramente lento bastone pesante ad avancarica un bastone pesante lento ad attaccare ma con un elevato potenziale dire spinta fuori campo quindi l'attacco secondario attacco pesante con un impatto e una potenza in grado di scaraventare via i nemici anche se comunque abbiamo armi che scaraventano via molto meglio i nemici non posso pensare al fatto di dovermi lanciare in missione e utilizzare come arma primaria uno sirhuti non per qualcosa perché alla fine riesco anche a infliggere danno con luna paleo però sicuramente ci sono anche qui armi molto più performanti e se proprio vogliamo dirla tutta abbiamo anche i bastoni di barba blake che sono il triplo più forti di questo bastone e soprattutto sono gratis quindi pensateci bene abbiamo anche l'amo da pesca attenzione perché ne abbiamo due differenti versione uno con doppia velocità attacco e una perk di danno e l'altro ce l'abbiamo senza velocità attacco livello critico danni critici danni danni bersagli affetti ma entrambi col tormento falce ad avancarica arma lenta che infligge danni elevati con impatto moderato in un arco ampio attacco mulinello attacco potente effettuato ruotando più volte che ferisce e respinge i nemici vicini tutti noi sappiamo che in questo periodo della storia il tormento è altamente buggato sostanzialmente doppia velocità attacco io sono uno che preferisce le cose con tanta velocità attacco specialmente poi quando le vado a abbinare su luna paleo è inutile che io mi vada a incentrare una build sulle falce solo per l'amo da pesca perché sinceramente non lo farei mai lo farei più volentieri appunto su falci molto più performanti rispetto a questa ecco comunque posso dirla mia non mi è neanche dispiaciuta così tanto sia quello lento sia quello veloce riescono veramente avere un ottimo potenziale quello lento ovviamente per gli zombie grossi magari potrebbe essere più utile anche se comunque magari colpire uno smasher tra un'animazione e l'altra diciamo che vi colpirà anche lui ecco mentre quello con la velocità attacco oltre che a difendervi da gruppi di zombie molto meglio riuscirete a ottenere anche un dps veramente veramente elevato con luna paleo però ovviamente questo solo con luna paleo l'amo da pesca vi consiglio di potenziarlo quindi beh se non avete altre falci ipoteticamente potete anche potenziarlo però per esempio perché dovreste preferirla alla falcia al vapore insomma dai parliamoci chiaro la falcia al vapore ha anche l'attacco secondario spammabile quindi secondo me anche l'amo da pesca passa un po' in secondo piano però non mi dispiace poi attenzione abbiamo il castigamatti attrezzo ad avancarica un martello che colpisce piuttosto duro con un attacco lento e ampio attacco in salto attacco pesante che salta sull'area bersaglio infliggendo danni e abbattendo i nemici vicini percato con un livello critico danni critici elemento energia efficienza energetica attacco pesante perché su quest'arma mi piaceva molto spammare l'attacco secondario diciamo che quando uscì questo set il castigamatti era sicuramente una delle novità maggiori di questo set appunto semplicemente perché oltre al caposlitter era uno dei pochi martelli su cui era possibile spammare l'attacco secondario quindi sicuramente un martello molto molto forte molto molto utile anche con la possibilità di essere spammato con saranti coccole con sotto i fossili insomma chi più ne ha più ne metta però anche sul castigamatti purtroppo mi tocca aggiungere al giorno d'oggi esistono martelli secondo me molto più performanti per esempio lo schianto sul round per esempio la mano del re mitico insomma lo schianto sul round oltre che avere l'attacco spammabile farà ballare anche i nemici nel frattempo che i loro ballano comunque non vi possono attaccare ed è questo il motivo per cui diciamo non utilizzo quasi più il castigamatti ecco è il turno è il turno del corsaro spada media ad avancarica un letale coltellaccio che combina al meglio danno e impatto con un critico eccezionale funziona al meglio insieme alle pistole taglio quadruplo una serie di attacchi pesanti che infliggono danno e respinta aumentati in sé questa spada raga sì non mi dispiace ma non è nulla di speciale ovviamente potrete abbinarla alla vendetta jack in quanto in caso di colpo critico aumenta il danno per colpi alla testa della pistola del 40% per 15 secondi poi vedremo dopo la perk della vendetta di jack però per fare ciò ovviamente anche qui sorge un problema veramente esistenziale per quanto mi riguarda cioè per fare questo gioco di corsaro vendetta di jack io ho bisogno assolutamente di più slot su cui mettere le armi perché se abbiamo solo 3 slot e 2 sono occupati dal corsaro e dalla vendetta di jack diciamo che sì dovrei comunque continuare a star lì a cambiare armi eccetera eccetera magari mangiarmi il wafer se lo posteggo tirare fuori il barone per correre la mano mitica per saltare magari più in alto di uno spazio insomma ci sono troppe variabili che non mi fanno preferire queste due cose in combo certo utilizzare il corsaro non molti di voi lo utilizzeranno rispetto alla vendetta di jack che comunque è molto forte anche da sola però in sé anche questa spada comunque non mi dispiace tanto devo dire che comunque riesce a ottenere un bel danno senza comunque andare a abbinare la spada alla pistola e neanche con gli eroi appositi non so voi ma comunque da un anno a questa parte io non mi sono mai permesso di entrare in missione con gli eroi appunto che funzionano in combinazione con la spada alla vendetta di jack però tra le mie 9 build sicuramente questa non sarà mai presente o almeno finché non aggiungono altri slot nell'inventario ed eccoci arrivati all'ultima arma la vendetta di jack pistola cannone portatile ad avancarica pistola colpo singolo di grande potenza che infligge danni notevoli con i colpi alla testa e respinge i bersagli particolarmente efficace se usata con una spada per combattere a distanza media e ravvicinata come vedete la sua ultima perk le eliminazioni con colpo alla testa aumentano la probabilità di critico degli attacchi con la spada per 15 secondi facilmente sostituibile appunto con i buffer no? i totalmente rock danni critici velocità di ricarica elemento fisico livello critico e altri danni critici questa pistola comunque è tuttora una delle pistole più forti di salva al mondo per quanto riguarda il colpo singolo non ci sono assolutamente dubbi per quanto riguarda ovviamente multi target beh è lo stesso discorso dello schioppo no? insomma ha solo un colpo un tempo di ricarica di 1,7 secondi quindi ogni colpo dovrete appunto aspettare 1,7 secondi il che non è molto vantaggioso quando vi pushano i 1000 zombie no? sapete meglio di me però sul colpo singolo questa pistola è in grado di estrapolare un potenziale veramente pazzesco non starò qua a dilungarmi oltre in quanto la vendetta di jack comunque è un'arma che già abbiamo visto in passato un'arma molto molto forte ve la consiglio assolutamente come vi consiglio assolutamente di questo set lo schioppo la vecchia bezzi oppure il cannocchiale in base a come preferite voi giocare e il castigamatti per il resto sono tutte opzioni che secondo me si possono tralasciare ecco in sostanza magari la duellante possiamo farci un bel pensierino l'amo da pesca possiamo anche su quello pensarci un pochino e il corsaro ma per il resto per quanto mi riguarda lo steer hooty il lancio a bullying e il dragone passano un po' il secondo piano di questo set niente raga questo era il video sul set ad avancarica spero che sia stato di vostro gradimento ci tengo molto a sapere la vostra ecco fatemi sapere quale di queste armi vi è piaciuta di più ovviamente dai cerchiamo di tralasciare la risposta schioppo e vendetta di jack oltre a queste due quale di queste armi vi sareste potenziati al mio posto io per oggi vi saluto vi ringrazio di aver guardato questo video noi ci vediamo col prossimo episodio bella bella ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti